In collaborazione dunque con Q Consulenze Finanziarie saluto Massimo Guerrieri che è il titolare, buona giornata Guerrieri, benvenuto e buongiorno a Paolo Giovanardi, ufficio studi di Q Consulenze Finanziarie, buona giornata Giovanardi. Abbiamo diversi temi da affrontare oggi, il titolo però di questa rubrica è sempre quello che riguarda i nostri soldi, come tutelarli, qualche consiglio per mantenerli anche in questo momento così difficile. Possiamo mettere in sovimpressione il nostro titolo che riguarda i nostri soldi e noi cominciamo a parlare di un tema di stretta attualità, perché in questi giorni si è sentito parlare dell'ennesima colossale truffa guerrieri a livello mondiale. Allora intanto cerchiamo di capire cosa è successo e poi cerchiamo anche di spiegare ai telespettatori come non cadere in queste trappole. Sì, diciamo che l'allerta deve sempre essere massima, ovvero noi abbiamo anche scritto un libro che parla delle crisi economiche nella storia e vediamo come si perpetuano truffe ai danni dei risparmiatori, questo da sempre. Ai giorni nostri diciamo che ne abbiamo viste recentemente parecchie, molto probabilmente perché c'è questa voglia di guadagnare tanto e subito e questo porta poi inevitabilmente a fare il gioco dei truffatori. Quindi venendo a questa truffa che è stata multimiliardaria e ha coinvolto persone di tutto il mondo, è stata anche per l'ennesima volta basata sulla voglia di rendimenti. Quindi era una pseudo società di broker che prometteva ai propri clienti l'1% al giorno. Considerate che Madoff, un altro grande truffatore di qualche anno fa americano, lui prometteva l'1% al mese e ha fatto anche lì una delle truffe più grandi della storia. Questi signori, articolo del Sole 24 Ore di qualche settimana fa, hanno messo in piedi un sistema di tra virgolette pubblicità con numeri verdi dicendo ai clienti dati i vostri risparmi a noi che ve li facciamo rendere l'1% al mese. Questo con il classico sistema Ponzi, cosa intendo? Loro prendevano denaro, poi anziché investirlo lo spostavano su conti personali e usavano parte del denaro per pagare gli interessi. Quindi questo è andato avanti per anni fino a che ovviamente i clienti hanno iniziato, visto poiché in teoria in questi estratti conto fasulli avevano maturato cifre importanti, quando hanno iniziato a richiedere soldi indietro, sia i conti correnti che la società che il sito internet è tutto sparito. Addirittura non si sa dove è neanche la sede di questa azienda, perché doveva essere a Panama piuttosto che all'Isole Vergini. Ecco, quindi l'attenzione che io volevo invitare ai clienti, oltre che la prudenza, ma anche il non farsi prendere la mano da facce di illusione. Cioè, ovvero, oggi i tassi sappiamo che sono bassi, tutto ciò che comporta un tasso più alto rispetto ai tassi di mercato comporta un rischio. Quindi attenzione agli specchietti per le allodole, perché altrimenti saremo tutti maghi, o tutti Pinocchio, che sono in grado di moltiplicare il denaro. Cioè, per evitare questi raggiri bisogna informarsi meglio? Cosa bisogna fare per dare qualche consiglio concreto? La cosa che io consiglio, che è la cosa principe, è due cose. La prima è, se la cosa non è chiara, quindi oltre a non farsi prendere la mano dei rendimenti, quindi già il rendimento deve essere uno spicchio per le allodole. Oggi i tassi sono 0, se qualcuno mi promette un 3, 4, 5%, è bene che io vada a vedere. Perché dietro ci sono dei rischi che molto probabilmente, tassi che sono spropositati, quindi Madoff dava l'1% al mese, cioè un 12% all'anno, molto probabilmente non solo è bene dormirci sopra, ma forse è meglio anche chiedere ai figli, i parenti, gli amici, e perché no anche a dei consulenti, al di là che siano consulenti finanziari indipendenti come noi, il commercialista, l'avvocato, un professionista, quindi sicuramente consigliarsi con persone fidate, i parenti, gli amici, e o un consulente che sia in grado di vagliare. Sì, perché cadere in queste truffe può poi avere conseguenze. Ed è sistematico, quindi l'essere umano, abbiamo visto appunto nella storia che difficilmente, ma lo vediamo anche qui con le guerre, ci ricadiamo sempre, non risolvono nulla, però siamo sempre in guerra. L'essere umano tende a ripetere gli stessi errori. In questo caso, preservare, come diceva anche nelle puntate precedenti, i nostri risparmi è importantissimo, perché siamo in un periodo di crisi e i risparmi ci servono per affrontare le sfide dell'umanità. Vedete, possiamo pure mandare in onda ancora la pagina proprio a cui si riferisce la notizia pubblicata dal Sole 24 ore, è sparito un miliardo di dollari. Sì, un miliardo di dollari sono mille milioni di dollari, quindi è una truffa importante. Ma qua ha preso anche persone anziane che hanno messo i loro 10.000 euro, 20.000 euro, convinti di, per un periodo funziona, perché ovviamente questi interessi, pseudo interessi, vengono pagati con i soldi di altri, che continuano a versare sui conti correnti, nel momento in cui si inizia poi a chiedere indietro i propri risparmi, il castello crolla. Ecco, quindi è un articolo, quello che abbiamo appena visto, di qualche settimana fa, del Sole 24 ore, quindi ecco, colgo l'occasione appunto, perché poi abbiamo visto... Per fare anche un po' di chiarezza e soprattutto per mettere in guardia, rispetto a queste truffe, l'ennesima, perché poi alla fine purtroppo queste truffe si ripetono. Quindi occhi aperti. Adesso invece voglio cambiare un attimo l'orizzonte e parlare di un tipo di investimento che è molto presente oggi nel nostro portafoglio. Sto parlando delle polizze assicurative, di che cosa si tratta? Sì, anche lì ne avevamo accennato, quando parlavamo di prudenza, nelle puntate precedenti, vi avevamo promesso un po' di approfondire poi in un secondo momento. Quindi le polizze assicurative nascono appunto come assicurazione. Oggi sul mercato ne abbiamo di diverse forme, quindi sempre nell'ottica di prudenza dobbiamo andare a dire ai nostri spettatori quale forme prediligere. Ovvero noi abbiamo due tipi di forme. Abbiamo polizze assicurative denominate gestioni separate, che sono le polizze assicurative che vengono usate dai fondi pensione. Quindi hanno lo scopo di tutelare le pensioni. Quindi hanno una componente di sicurezza molto alta. Poi abbiamo, tra virgolette, un mare nostro, dove abbiamo tutta una serie di altre polizze assicurative, dove ognuna è regolata da un singolo prospetto informativo, che è proprio un contratto a sé stante. Quindi il consiglio che io mi sento di dare ai nostri telespettatori è se sottoscrivono una gestione separata, che ha due caratteristiche fondamentali di sicurezza. La prima è che ogni anno consolida gli interessi, ed è formata principalmente da titoli obbligazionari. La seconda è che oltre ad avere la garanzia del fondo, ha anche la garanzia dell'assicurazione che emette questa polizze. E quindi diciamo che sono a oggi forse le più garantite che sono presenti sul mercato. Tutte le altre polizze, quindi che non sono gestioni separate, quindi il nome è proprio Fondo a Gestione Separata, come dicevo, sono ognuna regolata da un prospetto informativo. Noi vediamo, e anche lì invito, quindi invece per tutte le altre polizze, a prestare attenzione, a leggere il prospetto informativo, oppure a approfittare del nostro check-up gratuito per verificare cosa hanno in portafoglio, cosa hanno firmato, perché? Perché noi vediamo che nel secondo caso, spesso e volentieri, non sono altro che scatole dove dentro abbiamo la più svariata tipologia di investimenti. Quindi da fondi azionari, obbligazionari, dopo dentro c'è tutto. Quindi si mette un cappello assicurativo che in realtà è una scatola che produce costi, ma che non produce l'effetto di protezione che dovrebbe produrre un'assicurazione. Ecco, Giovanardi, abbiamo anche una seconda diapositiva proprio per capire le attenzioni che i comuni risparmiatori devono adottare, no? Prima di sottoscrivere questi investimenti. Esatto. Diciamo che mentre per le gestioni separate le attenzioni sono intanto capire se si tratta di gestione separata oppure no, e poi guardare più che altro un discorso legato alle spese. Cioè le criticità possono essere che magari ci sono delle commissioni di ingresso, delle commissioni di uscita o delle spese di gestione molto alte che alla fine, visti i tassi che ci sono oggi, che si sa che sono vicini allo zero, vanno a mangiare buona parte del rendimento. Per quanto riguarda invece tutto il secondo insieme che faceva Prima Massimo, cioè quello che comprende tutte le altre polizze, lì ci vuole massima attenzione perché possono esserci problemi di diversa natura. Noi lo vediamo un po' tutti i giorni perché, come dicevi tu prima, sono un po' investimenti che specialmente gli anziani hanno in parte principale, spesso anche nel proprio patrimonio. La prima attenzione è capire sicuramente che cosa c'è dentro, che rischio c'è dentro. Nella seconda di positiva che abbiamo preparato per questo incontro di oggi e facciamo vedere la polizza che ci ha fatto vedere un nostro cliente che aveva sottoscritto alcuni anni fa, dove a fronte di un patrimonio iniziale di 150.000 euro, questa polizza registrava, quando l'abbiamo analizzata, un calo di oltre 70.000 euro, quindi una variazione superiore alla metà dell'investimento, una perdita del 50%, in poche parole. Questo perché? Perché pur essendo una polizza assicurativa, quindi chiamata polizza assicurativa, in realtà di assicurativo, di garantito, di componenti di sicurezza, in realtà non aveva praticamente niente. Ci sono molte polizze in questo secondo insieme che hanno investimenti principalmente azionari, hanno grandi quantità di derivati, sempre per la finalità di cercare di dare un rendimento superiore, invogliando con dei tassi superiori alla media, ma ovviamente scaricando sul cliente i rischi che ci sono collegati. Anche in questo caso ovviamente c'è da dare risalto anche alle spese che ci sono, alle scadenze che hanno queste polizze, insomma capirci un po' di più avendo cura per quello che si va a fare e sicuramente non firmare quando vengono proposte, ma prendersi un minimo di tempo per capirci un po' di più di quello che si ha, insomma, o di quello che viene proposto. Ecco, Guerrieri, insomma, questa rubrica è un po' nata per questo, non tanto per indirizzare i vostri soldi rispetto a un investimento piuttosto che un altro, ma quanto ne fa l'attenzione quando appunto vi approcciate a un investimento, anche sulle polizze assicurative l'attenzione deve essere mantenuta alta. Sì, come dicevo, ecco, nel caso si abbia in portafoglio una polizia assicurativa a gestione separata, lì la scelta tra un'assicurazione e un'altra è più che altro legata ai costi e o ai rendimenti, ma la sicurezza è massima. Mentre se in portafoglio si hanno altre polizze che non sono a gestione separata, in ottica che è meglio prevenire che curare, è bene guardare, guardare il tipo di contratto che si è firmato, perché ognuno ha un contratto a sé stante, cioè specifico. Quindi io invito sempre i telespettatori ad approfittare di questa occasione, noi per i telespettatori di Telereggio facciamo i check-up gratuiti, quindi basta telefonare, prendere un appuntamento e andiamo a verificare il grado di rischio che hanno le polizze e il portafoglio titoli in genere. Bene, grazie Massimo Guerriere e Paolo Giovanardi di Q Consulenza Finanziale. Grazie a te, buona giornata, buon lavoro. Le notizie, primo appuntamento con l'informazione qui a Buongiorno Reggio, le Info News e poi torniamo per parlare di...